Sabato 2 luglio, presso l'azienda agricola Deleiva, nel bellissimo Parco San Bartolo, si terrà la prima Deleiva Run, gara podistica e camminata, organizzata dalla GPA Polizia Penitenziaria di Pesaro. L'intero percorso, misto collinare, si svilupperà all'interno dell'azienda e sono previste due sezioni, gara e camminata. Iscriviti anche tu! L'azienda regalerà a tutti i partecipanti i suoi prodotti e ci sarà una degustazione aperta a tutti di soli 10 euro.